Salve gente, qui è Paul on the plane con un breve video oggi. Il giorno dopo l'eclisse di luna del 31 gennaio 2018, un mio caro amico Ron Hagberg, che abita in Florida, ha filmato ambedue i video con delle evidenze fotografiche l'altra notte dell'eclisse di luna, che secondo la mia opinione fa semplicemente saltare in aria il modello della Terra a globo, perlomeno la menzogna con cui ci hanno nutrito dove l'eclisse di luna è causata dall'ombra della Terra che si vede sulla Luna stessa. A tutti ci hanno raccontato che il fenomeno dell'eclisse di luna succede quando il Sole, la Terra e la Luna sono tutte allineate e che l'ombra della Terra causata dalla luce del Sole si vede sulla Luna. Pertanto l'area scura che si vede si suppone si tratti, fra virgolette, della curva della Terra. Ma quello che ha documentato il signor Hagberg l'altra notte, come potete vedere qui, è che la presunta ombra della Terra è completamente capovolta rispetto a come dovrebbe succedere nel modello a globo. Se la parte scura della Luna si crede sia l'ombra della Terra, come mai l'ombra non inizia dalla parte opposta o dal basso della Luna? Potete vedere il lavoro completo del signor Hagberg su Facebook, che l'ha reso pubblico in modo che tutti possano vederlo e rivederlo, fare le proprie considerazioni e condividerlo. Trovate i link nella descrizione del video. Oggi pomeriggio mi ha raccontato che i suoi video e le fotografie sono diventate virali e molti gli hanno chiesto di poter condividere così come l'ha concessa a me la condivisione. Ci sono state altre persone che mi hanno inviato foto come questa, mostrandomi angoli differenti dell'ombra, come qui sul fianco della Luna, e che non funziona comunque sul modello heliocentrico. Su Facebook ci sono molti altri account di persone che hanno sperimentato l'oscuramento della Luna all'altrote con il Sole che era ancora visibile sopra l'orizzonte. Spiegate questo, cari signori difensori della Terra Globo. Ecco, è tutto per oggi. Spero vi piaccia il video di Mr. Hagbard e, come è piaciuto a me, condividete questo video alle vostre cerchie. Alla prossima, qui è Paul on the plane. State piatti. State piatti. Grazie a tutti.